Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti i metodi per poter bucare un solaio. Il primo metodo estremamente veloce è quello di utilizzare lo strumento forometria. In questo caso dovresti utilizzare almeno un Archicad 23 perché è questo uno strumento che è stato introdotto con questa versione. Per cui se vado a selezionare lo strumento forometria dove logicamente puoi andare a definire forma e dimensione. Ricordati che la forma può essere quadrata, rettangolare oppure circolare. Basterà andare a posizionarsi sopra il solaio, fare un clic e automaticamente viene inserito il foro. Se vado a selezionare una forma circolare mi vado sempre a posizionare, faccio un clic e abbiamo lo stesso risultato. Per quanto riguarda invece la creazione di fori, magari di forme personali, puoi andare a selezionare lo strumento solaio e andare a selezionare il solaio che vuoi andare a bucare. In questo caso puoi procedere andando a disegnare all'interno del solaio la forma da bucare. Se vado a scegliere un metodo geometrico rettangolare posso andare a definire un foro rettangolare o quadrato. Logicamente puoi andare anche a inserire delle dimensioni in modo tale da creare un foro con delle dimensioni note. Puoi anche selezionare un metodo geometrico poligonale in modo tale da poter andare a creare un foro con una geometria differente rispetto a un rettangolo o un quadrato. Nel caso in cui invece devi andare a forare il solaio con un foro circolare, un foro con una forma particolare, puoi aiutarti utilizzando un disegno bidimensionale. In questo caso sono andato a disegnare con una polilinea questo foro e con lo strumento arco cerchio il foro circolare. Ora per poter andare a forare rapidamente vado per prima cosa sempre a selezionare il solaio e poi tenendo premuto la barra spaziatrice vado ad attivare la bacchetta magica. Faccio un clic all'interno del foro e automaticamente possiamo vedere che Archicad va a forare andando ad utilizzare il disegno bidimensionale come contorno del foro. Per poter forare ancora un solaio puoi anche procedere con la creazione dei fori all'interno del solaio anche in un altro modo. Ora vado a cancellare tutti i fori creati e vado a utilizzare lo strumento freccia per selezionare e ora decido di mantenere selezionato lo strumento freccia e vado a forare il solaio. Per poterlo fare devo andare a fare clic su un suo lato, andare a selezionare il comando su tryer poligono e ora procedere con l'inserimento del foro. Stessa identica cosa nel caso in cui voglio utilizzare la bacchetta magica per l'inserimento all'interno del cerchio oppure della forma particolare disegnata con la poligono. Ecco questi sono i sistemi che puoi utilizzare per poter andare a forare un solaio. Ricordati che gli stessi metodi possono essere utilizzati con tutti i poligoni di Archicad.